Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi mangerò una margherita napoletana piena piena di mozzarella, non vedo l'ora di iniziare a mangiarla, sembra veramente straordinaria è troppo arricreante, troppo saporita, sapete che a me mi piace assai la pizza napoletana adesso inizio a mangiare ciao Il nostro corso gratuito è molto bello! super buona super 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 io adoro la pizza ragazzi non dovrei essere più lento mi viene da divorarla ogni volta la pizza . Buon appetito! è squisita è veramente troppo troppo buono è molto buona è molto buona è molto buona La pizza era davvero ottima, squisita. Un abbraccio a tutti voi. Arrivederci al prossimo video.